Al laboratorio di microbiologia molecolare del Policlinico di Messina è stata individuata una nuova mutazione del Covid-19, finora sconosciuta in Sicilia. Si tratta della cosiddetta variante brasiliana ed è stata scoperta su due giovani di Sant'Agata di Militello, risultati positivi la settimana scorsa. Successivamente al sequenziamento ai due soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare è stata riscontrata la mutazione P1. C'è ovviamente apprezzione da parte delle autorità sanitarie, in quanto gli studi sulla mutazione hanno dimostrato una potenziale maggiore trasmissibilità e anche propensione alla reinfezione del Covid-19. Il sindaco Bruno Mancuso ha confermato che nel tardo pomeriggio di ieri il Policlinico di Messina ha notificato alle autorità la presenza dei due casi di variante brasiliana a Sant'Agata di Militello. Da un lato siamo preoccupati, commenta Mancuso, in quanto la variante in questione è poco conosciuta e non possiamo prevedere quali potrebbero essere le complicazioni che può scatenare in chi la contrae, ma dall'altro ci conforta il fatto che i due giovani positivi del nostro comune non abbiano manifestato sintomi. E' chiaro, conclude Mancuso, che è fondamentale continuare a rispettare le regole anticontagio, usare le mascherine e mantenere il distanziamento sociale. Occorre continuare a tenere alta la guardia.